Sequestrate in due distinte operazioni nei comuni di Marano e Quarto, 257 piane di canna bisindica, dell'altezza media di oltre 2 metri, per un peso complessivo di 500 kg circa. Con la prima operazione, le fiamme gialle della compagnia di Giuliano, al termine di un accesso in un fondo agricolo, hanno sequestrato il terreno sul quale venivano coltivate 150 piantagioni, gli attrezzi utilizzati per la potatura, l'irrigazione e l'essiccamento della sostanza stupefacente e due telefoni cellulari. Sono stati tratti in arresto tre giovani, un 22enne, un 27enne e un 32enne, tutti residenti a Marano in Napoli, sorpresi mentre stavano curando proprio la parte del fondo riservata alla piantagione di marijuana. Con la seconda operazione, la compagnia di Pozzuolo ha scoperto a quarto un terreno ubicato a ridosso della strada, una piantagione di cannabis ben nascosta, dato che era raggiungibile solo attraverso un sentiero ripido e impervio. Infatti, per accedere i finanziari hanno dovuto calarsi con corde e imbragature. Al di sotto di un canale per la raccolta delle acque reflue sono state individuate e sequestrate 107 piante di cannabis, di altezza variabile tra i 2 e i 2,5 metri, sequestrate insieme al terreno e al prodotto fertilizzante già utilizzato per la crescita e rafforzamento della piantagione. Due importanti risultati nella lotta alla droga da parte delle due compagnie della Guardia di Finanza del gruppo I Giugliano in Campania, che rientrano nell'ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei traffici illiciti.